Mia cara famiglia salesiana, miei carissimi confratelli salesiani di Don Bosco, vi saluto pochi minuti dopo della mia rielezione come rettor maggiore. Voglio pensare e credo fortemente che il Signore mi chiede questo servizio in questo momento per mezzo dei confratelli del capitolo generale. Voglio fare arrivare a tutti e in tutto il mondo salesiano il mio saluto e abbraccio, anche il saluto e abbraccio di tutto il capitolo generale e mi permetto di dare già due indicazioni molto semplici che porto molto al cuore perché è stato quello che abbiamo vissuto fortemente anche con la parola che ci ha rivolto Papa Francesco e con le testimonianze dei giovani qui presenti in mezzo a noi qualche tempo fa. E' questa. Mia cara famiglia salesiana, carissimi con Fratelli SDV, i giovani hanno bisogno di noi. I giovani ci dicono che ci vogliono tanto bene, che ci amano ma che hanno bisogno della nostra presenza ma di persone, di uomini nel nostro caso che possano comunicare questo amore di Dio, che possano dire a loro Dio ti ama. Penso che questo sesegno deve essere un sesegno fortemente marcato per questa compizione. Dobbiamo portare Dio ai giovani e allo stesso tempo, come ho detto tante volte, continuerò ad averlo in tutto il mondo e specialmente quelli più bisognosi, i più poveri, gli sfruttati e scartati. Siamo nati per loro. A tutti un grande abbraccio. Come dice Papa Francesco, anche io vi sogno sempre e anche particolarmente in questo momento, pregate per me, pregate per noi. Io vi prometto anche la preghiera e nella presenza del Signore. Grazie, un grande saluto con vero affetto. Ciao. Grazie a tutti.